Musica Un saluto e poi a Padre Torino, Bon Torino che è la chiesa di San Pasquale, sono i nostri occhi di onore a comprare il nostro caloroso applauso perché sono la perfetta di chiudere l'onore di San Pasquale. Io vorrei salutarvi a tutti questa sera meravigliosa, buonasera a tutti. E' vero molto grazie a vedere, veramente, le stessi, che sono innamorati a tutti i nostri amici, e sono innamorati a tutti i nostri amici, e sono innamorati a tutti i nostri amici, che abbiamo fatto un amico, E questa felicità è proprio per il fatto che siamo, come sempre, uniti dal nostro amore e dalla nostra fede per San Nicola. Mi fa molto piacere che questi eventi succedano proprio nella scuola e che sono gli alunni stessi essere i protagonisti di questi eventi. Noi dovremmo sempre ricordare i nostri santi l'esempio che devono essere loro per il nostro amore. I nostri figli, gli alunni come esempio per tutti, per la generazione futura. L'esempio di sviluppo è l'esempio di sviluppo, l'esempio di sviluppo è il migliore strumento per arrivare a più. Lo studio della vita dei santi è il modo migliore per avvicinarsi a Dio. E oggi con questo evento dedicato a San Nicola spero che saremo tutti più uniti e sempre più vicini a Dio e a San Nicola. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buongiorno a tutti. Buonasera a tutti. Grazie, grazie a tutti, è successo Don Torino, ora è il tuo turno, se vuoi spendere le tue parole anche la seduta, se vuoi, so che sei molto schifo a questo senso. Grazie, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti. Ecco perché è impossibile ripresentare, far vivere l'amore di un santo senza i colori. Senza i colori, l'augurio che questo evento ci conduca a ritrovare il senso del bello e il senso della luce che i colori esprimono, perché così anche la nostra vita diventa una vita più serena e più bella. Grazie. Salute a tutti, Don Torino e ringrazio a tutti gli sconosciuti che potrà volersi quindi innanzitutto. La bellezza di questo evento è altamente suggestivo ed impatto, bellezza per la vista e anche stupore per l'ascolto. E dunque andiamo avanti. Come avevamo già preannunciato, questo evento è stato anche reso fattivamente possibile dalla collaborazione, grazie alla collaborazione della nostra scuola. Maestro, se potete abbassare il suo conto un attimino il volume, grazie. Grazie comunque a questo sodalizio tra la scuola, tra il convinto nazionale Domenico Civillo e credo che questo sia un evento unico nel suo genere, un po' per la sua portata internazionale, ma anche per le idee un po' beneristiche del nostro dirigente, diciamo, che ha uno sguardo che va oltre molte volte e noi quindi lo seguiamo zitti zitti sperando e soprattutto forse nella certezza di stare facendo la cosa giusta come questa sera. E dicevamo, tutto ciò non sarebbe stato possibile se non ci fosse stata la collaborazione e l'amicizia appunto del centro di San Pietroburgo, diretto, magistralmente direi visti i prodotti, ma non solo vedremo ora una serie di testimonianze visive che in qualche modo lo attestano. Quindi in questo preciso momento mi piacerebbe che c'è un programma abbastanza difficile, ma noi ecco ci colleghiamo direttamente con San Pietroburgo, Marianna Piccadini, Sedalba Giosta, Spassi Navascioi, perché ci sono i suoi bambini in collegamento con San Pietroburgo, speriamo che ci erano, per il momento vediamo solo il preside. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.